FU VINTA LA TEMA DEL GIOVANE MENAVANTO DALLE PAROLE DI BONACCIA Fu vinta la tema del giovane Menavanto dalle parole di Bonaccia? No, poiché avea nel seno un dardo nomato Amarezza, che le parole non poteano rimuovere, e non era egli calmo come l'uno o come l'altro di voto? Quanto egli avrebbe voluto esser l'uno e l'altro, tanto non lo era né l'uno né l'altro. Non potea adoperarsi per ritrovare come nella sua giovinezza la bottiglia Santità della quale allora avea vissuto. In verità vi dico che no, poiché Grazia non era lì, senza la quale non si può trovare la bottiglia. Udì egli dunque in quel rombo la voce del dio figliatore o, come intendeva Bonaccia, un frastuono di fenomeno? Udì? Ebbene, non avrebbe potuto non udire, a meno che non avesse ostruito il tubo intendimento, il che fatto non avea, poiché attraverso quel tubo egli vide d'essere nella contrada di fenomeno, in cui un certo giorno dovea morire, in quanto egli era, come il resto degli uomini, una transeunte apparenza. E non accetterebbe egli di morire come gli altri e di decedere? In alcun modo non intendeva farlo, seppur lo doveva, e neppur fare di quelle vane apparenze quali gli uomini fan con le spose loro, il che fenomeno ha loro comandato di fare per il libro della legge. Non aveva dunque alcun sospetto di quell'altra contrada nomata Credi in me, che è la terra promessa che è assegnata al re delizioso, e sempre lo sarà, dove non va morte, né nascita, né maritaggio, né maternità, e a cui verranno tutti coloro che in essa hanno creduto? Sì. Pio gli aveva detto di quella terra, e Casto gliene aveva indicato la via, ma si dette il caso che per via si imbattesse in una certa putta di aspetto piacevole agli occhi il cui nome essa disse essere Uccello in mano, ed ella lo trasse seco per mali passi lungi dalla retta via, con sue blandizie quali Ola, bel garzone, volgiti per di qua e io ti mostrerò un loco delizioso. E così blandamente seppe inveschiarlo che lo ebbe con sé nella sua grotta, che è nomata due tra le fronde, ovvero, da alcuni dotti, concupiscenza carnale. Era ciò quanto più concupiva la brigata raccolta attorno alla mensa nel maniero delle madri, e se avessero mai incontrato quella putta Uccello in mano, che era dentro tutta turpi pestilenze, mostri e un diavolo perverso, avrebbero esalato l'ultimo respiro pur di assaltarla e conoscerla. Per quel che concerneva, credi, in me, dissero non essere altro che vana immaginazione, e non poteressi minimamente rappresentarlo, poiché, in primo loco, due tra le fronde, ove ella li adescava, era la grotta più piacevole del mondo, ed eranvi dentro quattro cuscini con suvi quattro biglietti con queste parole stampate sopra. A cavalluccio e sottosopra e pudibonda e guancia guancia, e in secondo loco che di quella sozza peste omnisifilide e degli altri mostri lor non caleva, da poiché, preservativo, avea dato loro un forte brocchiere di minugia bovine, e in terzo loco non poteano essi essere offesi neppure da progenitura, che era un cotal diavolo maligno in virtù di quel brocchiere istesso che nomavasi Spengifanti. Così sollazzavansi tutti nella lor cecità, Messer Arzigogolo e Messer Divoto Tempo Fa, Messer Scimmiotto Trincabirra, Messer Falsembiante, Messer Delicato Dixon, il giovine Menavanto e Messer Prudente Bonaccia, nel quale argomentare, o sciaurata brigata, voi tutti vi ingannavate, poiché quella era la voce del Dio che fieramente era corrucciato, sì da levar tosto il braccio e disperder le loro anime per il loro biastimare e per le loro dispersioni compiute in contrasto al suo comandamento che di generare calorosamente ingiunge. Così, giovedì 16 di giugno, seppellito Patcl Dignan per colpo apoplettico e dopo gran siccità, Dio piacendo, piove. Un battegliere giunto per via d'acqua da circa cinquanta miglia di distanza con un carico di torba diceva che il seme non buttava. La terra era sitibonda, di brutto colore, e pativa fieramente anche i paduli e le lande. Difficile tirare il fiato e i polloni giovani tutti consunti senza una goccia per tanto tempo che nessuno aveva memoria d'una simile mancanza. I boccioli color di rosa tutti abbruniti e aggrumati e sulle colline niente altro che giunchi e ramoscelli secchi pronti ad accendersi al primo fuoco. E tutti dicevano che, per quel che ne giudicavano, il grande vento del febbraio d'ora e un anno che sconvolse la contrada in modo sì miserevole era piccola cosa a petto a questa seccità. Ma grado a grado, come sopradetto, questa sera, dopo il cadere del sole, tirando il vento da ponente, nuvole rigonfie grandicce furon viste in cielo sul far della notte, e gli astrologhi a studiarle e qualche lampo riflesso prima e quindi, dopo le ore dieci, un gran colpo con tuono prolungato e in un batter di baleno via tutti a scapicollo al coperto per l'acquazzone furibondo, gli uomini facendo riparo ai cappelli di paglia con stracci o fazzoletti, le femmine saltellando con le gonne tirate su appena venne il rovescio. A Haley Place, Bagot Street, Duke Sloan, e di lì, attraverso il Marion Green fino a Holler Street, scorreva un torrente d'acqua che prima era asciutto come pomice, e non una portantina o cocchio o carrozza in vista, ma niente più scariche dopo quella prima. Di contro alla porta dell'onorevole signor giudice Fitzgibbon, che deve trattare con Mr. Healy, l'avvocato, il caso dei terreni del college, Mal Mulligan, gentiluomo nato che giungeva or'ora da casa di Mr. Moore, lo scrittore, un tempo papista ma adesso, dice la gente, buonorangista, si imbatté in Alec Bannon col suo parrucchino, che adesso vanno di moda con i mantelli di verde candle per i balli, giunto appena in città con la diligenza di Mullingar, dove un suo cugino e il fratello di Mal M. hanno in animo di rimanere ancora un mese fino a St. Sweeting, e tosto gli chiede cosa mai facesse lì, l'uno diretto a casa e l'altro da Andrew Horne, nell'intento di vuotare un calice. Così egli disse, ma voleva prima narrargli, d'una vitellina focosa, grande per la sua età e polpacci grossi, e tutto il tempo pioveva di rotto, cosicché ambe due si mossero verso Horne. Quivi Leop Bloom, della Gazzetta di Crawford, se ne stava tranquillo e placido, in mezzo a una brigata di vagheggini, giovini attaccabrighe, Dickson Junior, scolaro della Vergine della Misericordia, Wyn Lynch, un di Scozia, Will Madden, Tilenehan, molto tristi a cagione d'un cavallo da corsa che gli stava a cuore, e Stephen Dee. Leop Bloom era là per via di un languore di cui era guarito, avendo egli fatto stanotte un strano sogno di Mrs. Small, sua consorte, con pianelle rosse e pantaloni alla turca, il che importa un qualche mutamento, secondo quelli che sono addentro alla cabala. E anche madama Pierrefoy era là, entrataci col conclamare la sua gravidanza, e alla tortura del cavalletto, ora povera creatura, in ritardo di due giorni, fieramente disperando le mammane, che non può sgravarsi, e lei con la nausea per via di una tazza d'acqua di riso che validamente prosciuga gli umori intestini, e il suo alito molto grave, più di quel che è bene, e dai colpi dicono debba essere un maschiaccio, e possa e Dio presto concederle sollievo. È il nono marmocchio che le viva, mi si dice, e il giorno dell'annunciata rosicò le unghie dell'ultimo marmocchio che aveva dodici mesi, e con altri tre, tutti allattati al seno, che sono morti, è scritto in bella calligrafia nella Bibbia di famiglia. Lo sposino è sui cinquanta e metodista per giunta, pure si comunica, e lo si vede ogni dì di sabato con un paio dei suoi marmocchi a largo della baia di Balloc a pescare nel canale con la canna a molinello, o in un suo sandolo a pescare passerini e naselli, e ne prende in gran copia, mi si dice. Insomma, un infinito rovescio di pioggia è tutto rinfrescato e accrescerà il raccolto, benché gli astrologhi dicano che dopo il vento e l'acqua verrà il fuoco, secondo un prognostico dell'almanacco di Malachy, e mi si dice che Mr Russell abbia tratto dall'Indostano un oracolo profetico dello stesso tenore per la sua Gazzetta del fittavolo. Perché non va due senza tre? Ma questa è una mera trappola senza un fondo di ragione per vecchie strambe e pargoletti, per quanto talvolta sian stati trovati nel giusto con le loro stramberie. Va a saper come! Con questo venne su Lenehan, a piede il tavolo, per dire di come la lettera fosse apparsa sulla Gazzetta della Sera, e fece mostra di cercarla su di sé, perché giurava e spergirava che l'aveva presa a cuore, ma rimettendosi al volere di Stephen rinunziò alla ricerca e gli dissero di star seduto lì vicino, il che egli fece assai sollecitamente. Era una sorta di giovin signore burlone, che aveva nome di grande umorista e galante, ed ovunque si trattasse di donne, cavalli o grossi scandali, egli era di casa. A vero dire era caduto in bassa fortuna. E per lo più si aggirava per i caffè e le taverne di basso rango in compagnia di agenti arruolatori, garzoni di stalla, allibratori, messi giudiziari, galoppini, apprendisti, lacchè, donne di bordello e altri pendagli da forca, oppure col primo uffiziale di sceriffo o banditore capitato a tiro, spesso dalla sera fino a giorno fatto, onde traeva molte chiacchiere e voci tra una bevuta e un'altra. Soleva fare i suoi pasti a una rosticceria e se solo poteva ingollare qualche avanzo o una piattaia di trippa con un solo testone nel borsello riusciva sempre a trarsi d'impaccio con la lingua, con qualche motto salace appreso da una sgualdrina o qualcosa di simile che faceva schiantar dal ridere tutti i figli di mamma. L'altro, cioè a dire costello, udendo quel dialogo, chiese se fosse poesia o un racconto. In fede mia no, Frank, così si chiamava, dice quegli, è una cosa a proposito di quelle vacche del Kerry che giocoforza macellare a causa della peste. Che si impicchino pure per conto mio, dice ammiccando, e i loro torelli baldanzosi. Accidenti a tutti. In questa scatola son pesci gustosi quant'altri mai. E molto familiarmente fece l'atto di afferrare qualche argentino salato che era agli a tiro da lui nel frattempo cupidamente adocchiato. E così giunse ove voleva che tale era stato in verità il principale intento del suo dire da che era famelico. Mortovache, dice allora Frank in lingua franciosa, da poiché era stato apprendista da un mercante d'acquavite che aveva magazzino a Bordeaux e parlava di conseguenza il francese come un gentiluomo. Sin da fanciullo questo Frank erasi mostrato un fannullone cosicché il padre, capo quartiere, che mal riuscì a mandarlo a scuola onde fargli apprendere le lettere e l'impiego delle mappe, lo immatricolò all'università perché Ivey studiasse la meccanica. Ma quegli strinse il morso tra i denti come un puledro indomito e fu più familiare dei famuli della giustizia civile e parrocchiale che dei suoi volumi. Da allora faceva il proposito di divenire attore, poi vivandiere o allibratore, poi niente l'avrebbe distolto dall'arena degli orsi e dei galli. Altra volta voleva darsi agli oceani oppure percorrere le strade maestre con le genti zigane, rapendo il pargolo d'un signorotto col favore della luce della luna o sgraffignando la biancheria tesa ad asciugare o strozzando galline dietro una siepe. Se n'era partito più volte di quante un gatto abbia vita in corpo, ed era tornato con le saccocce vuote dal padre capo quartiere altrettante se non più, piangendo quest'ultimo un boccale di lacrime ogni volta che lo rivedeva. Grazie. 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 Grazie.